Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione del Tg delle Capitale delle 19.30. Vi presento subito l'ospite che ci farà compagnia per tutto il telegiornale, il professor Aldo Ferrara, docente di malattie respiratorie all'Università di Siena. Benvenuto nei nostri studi, professore. Buonasera a voi tutti. E con lei commenteremo tutte le notizie di questo telegiornale, in particolare alcune su cui lei sicuramente è più ferrato. Ma apriamo il nostro telegiornale con la notizia di questi giorni, ovvero il vertice per la pace che sarà a Roma mercoledì prossimo. Noi abbiamo titolato Libano, mediazione, cercasi. Mercoledì Roma infatti sarà al centro del mondo. Vediamo come la Capitale si prepara a ospitare la conferenza internazionale sulla crisi medio orientale, città blindata tra la Farnesina e Villa Madama.